GF VIP, Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo, poi mette in guardia, cosa è successo nella notte. Antonella Fiordelisi chiude con Edoardo Donnamaria. Dopo giorni di scontri, liti e accusi pesanti e una diretta molto intensa. La coppia dei Donnalisi sembra essere giunta al capolinea all'interno della casa del grande fratello VIP. Con tono solenne Antonella nella notte ha comunicato a Edoardo di porre la parola fine sulla relazione, spiegandone i motivi. Chanel Totti a casa di papà, il primo gesto di amore verso noi mi bocchi. C'è posta per te, che succede se non si risponde al postino? Ecco la retroscena. In puntata mi hai messa in cattiva luce con il tuo gruppetto che applaudiva. Visto che sono venuta qui per pensare a me e non per stare male per un uomo. Da adesso in poi io sono sola come lo sei tu. Io e te per quanto mi riguarda non stiamo più insieme e non siamo più una coppia. Lo faccio per me stessa. Non riesco a sopportare più tutto questo. Tutti i tuoi amici mi hanno nominata e non voglio più avere a che fare nulla con voi. Se avrai bisogno di me ci sarò, ma non come fidanzata. Se non stiamo bene qui è impossibile che cambi fuori. Antonella non nasconde la sua delusione, non è solo ciò che è successo in puntata. Ma varie cose che non mi piacciono di te. E io non riesco proprio ad accettarle. E lo faccio anche per te, uno dei due deve essere coraggioso e prendere la decisione di essere singolo e fare questo percorso da soli da ora in avanti. Ho creduto in una cosa che non era quella. Non mi lascerò più andare con nessun uomo. Poi però ha messo in allerta Edoardo, tu però stai attento e sappi che i tuoi amici mi hanno votata. I veri amici non vogliono cacciare la fidanzata di un loro amico. Poi c'è chi parla di amore libero. È sposata e va con chi vuole, poi chi va con uno e poi un altro, io cerco amore e rispetto e un ragazzo che mi ami. Comunque è finita perché non avrebbe senso andare avanti. Perché in primis non voglio stare male come sono stata fino ad adesso. All'inizio non mi facevi stare male poi sei cambiato. Pensavo di aver trovato un amore vero. Quello dei film come Romeo e Giulietta o il Titanic. Aia de când mă știu textul-i plin de dude. Dumele tante printre dale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată nu le opresc. Că nu s-a atât de nebun mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine. Fii egoist dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din tot sau tot MC cu care am crescut. Pe scurt de la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Tre' să-ți...